Ciao a tutte, ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Di cosa parliamo oggi? Ma parliamo di profumi. In particolare oggi vorrei parlarvi di una novità in casa Erbolario, una nuova uscita profumosa. Voi sapete quanto io ami Erbolario. Negli anni parlandovi di profumi vi ho parlato davvero di tantissimi profumi di Erbolario e chi mi segue da tempo sa che uno dei miei profumi preferiti, che considererei un profumo della vita, è sicuramente Dolce Lisir che purtroppo al momento è un discontinuato. Però io spero che il signore Erbolario lo rimetta in vendita prima possibile perché è un profumo amatissimo e particolarissimo. Allora, di quale linea stiamo parlando? Di quale nuovo profumo stiamo parlando? Ma di Altea. Allora, che io ho acquistato in questo formato da 15 ml perché quando ho la possibilità di acquistare dei formati un pochino più piccini li preferisco perché essendo io un'appassionata di profumi, avendo tantissimi profumi, il 15 ml mi dà anche la possibilità di poterli portare a termine in breve tempo. Insomma, io dico così, però la realtà è questo, è un formato più piccolo e utilizzandolo insomma con costanza possiamo comunque portare a termine un profumo visto che per me è un evento sensazionale, per questo ve lo sto dicendo, terminare un profumo. Allora, torniamo seri. Il profumo, dunque, Altea o, vedete, da un lato c'è scritto profumo Altea dall'altro lato c'è scritto Marshmallow Parfum, adesso vi racconto un po'. Allora, questo termine, giusto per, come dire, cercare di capire un po' la tipologia di profumo Allora, stiamo parlando di un profumo fiorito agrumato ed è un profumo che ha insito nel suo nome un termine che secondo me lo descrive benissimo perché Altea può essere tradotto dal greco come curare, prendersi cura del proprio corpo e in questo caso questo tipo di profumazione ha un po' un effetto di cura per l'anima perché è talmente delicato, talmente dolce che quando l'ho indossato per la prima volta ho proprio sentito proprio una sensazione di benessere per cui questa terminologia cura, cura dell'anima, insomma, secondo me gli si addice tantissimo Invece, che attinenza abbiamo, mi sono andata a cercare un po' qualcosa che attinenza abbiamo tra il Marshmallow e l'Altea? E' molto interessante, diciamo, la spiegazione che ho trovato qui sul sito non sul sito di Erbolario, scusate, ma sul web Allora, Marshmallow, Marshmallow significa malva della palude che, come l'Altea, ve lo vado a leggere così ve lo leggo esattamente appartiene alla famiglia delle malvacee L'Altea veniva effettivamente utilizzata per la produzione dei Marshmallow e questo non dagli americani ma bensì dagli francesi che dall'albume sbattuto, dallo zucchero e dalle componenti collose della radice dell'Altea producevano una sorta di dolcetto che è stato proprio l'antenato del Marshmallow Ecco perché c'è questo legame tra l'Altea e il Marshmallow e perché all'interno di questo profumo è come se avvertissimo proprio queste note, scusate, così morbide e goduriose del Marshmallow le note olfattive di questo profumo, ve le vado a leggere subito troviamo dunque il fiore di limone, il fiore di arancio, l'Altea, la rosa la rosa bianca, i muschi e la vaniglia Allora spruzziamolo un attimo Dunque, ho sentito dire in qualche recensione che il profumo viene accostato al Narciso Rodriguez for Her se non ricordo male quello rosa In realtà il profumo, quando lo vado a spruzzare ma questo al mio naso è percepito per pochissimi minuti cioè questo sentore che effettivamente lo accosta moltissimo al Narciso Rodriguez for Her però direi che questo profumo non è assolutamente un dupe del Narciso Rodriguez for Her perché una volta passati quei 5 minuti, 5-6 minuti insomma sono troppo precisa ma comunque siamo intorno ai 5 minuti lo ricorda soltanto in testa perché poi il profumo evolve, si trasforma e secondo me assume un suo DNA, una sua particolarità e originalità quindi se vi va di acquistarlo perché spinti dal fatto che potrebbe essere un possibile dupe di quel profumo io vi dico di no è qualcosa che ha dei richiami, dei sentori ma sicuramente il profumo poi evolve in qualcosa di totalmente diverso allora, esordio pungente e sferzante in cui queste note agrumate così allegre e piacevoli e così aromaterapiche sono assolutamente presenti dopodiché mi piace l'evoluzione di questo profumo perché permette di sentire le singole note della piramide olfattiva almeno io in questo profumo sono riuscita un po' a sentirle, a scinderle l'una dalle altre dopodiché si apre questo cuore questo cuore di Altea e di Rosa Bianca ed è proprio in questo cuore che io percepisco come mettere le mani che avete presente dentro i sacchetti dei marshmallow quindi quando andiamo a sentire proprio la consistenza morbida, gommosa, piacevolissima dei marshmallow questa è la sensazione che provo dopo un paio di minuti dall'aver spruzzato il profumo quindi i sentori leggermente gourmand questo è un profumo che è sì, un agrumato, fiorito ma allo stesso tempo un gourmand però non i classici gourmand non è un profumo iperglicemico ha questi sentori proprio classici, proprio della profumazione dei marshmallow che non sono dei marshmallow alla fragola ma sono dei marshmallow alla vaniglia super super goduriosi quindi un cuore fiorito ma allo stesso tempo gourmand e poi il profumo lascia spazio a questo fondo super cremoso, super morbido e anche dai sentori molto molto puliti perché la presenza dei muschi sul fondo è abbastanza presente e c'è questa nuvola di dolcezza e allo stesso tempo di sentori puliti che ci avvolge è un profumo perfetto per questa stagione, perfetto per la primavera, perfetto per l'estate non è soffocante, è gradevolissimo da indossare e secondo me è un profumo che cattura l'attenzione perché ha una buona presenza è un profumo che secondo me si proietta abbastanza la durata devo dire che è abbastanza discreta su di me quindi io lo promuovo assolutamente anche per quanto riguarda la durata perché per me se un profumo dura quelle 3-4 ore è una durata degna di nota mi piace tantissimo è un profumo molto semplice però d'effetto romantico, delicato che ripeto regala una sensazione di benessere e di buon umore è sicuramente un profumo da indossare in quelle giornate in cui magari anche come umore non siamo proprio al massimo in cui magari c'è qualche pensiero negativo che ci frulla per la testa è sicuramente un buon compagno, un buon compagno in quella particolare giornata e poi ovviamente è un ottimo compagno anche nelle giornate meravigliose pieni di felicità, pieni di sole e pieni di allegria andatelo a sentire perché secondo me tra le ultime creazioni di erbolario forse questa è quella che mi è piaciuta di più è difficile che non mi piaccia un profumo di erbolario però questo mi ha particolarmente entusiasmata lo trovo originale, lo trovo carino mi piace questo abbinamento tra l'agrumato, il fiorito e questi sentori proprio di dolcezza classica data appunto dai sentori vanigliati, dai sentori di marshmallow io ve lo straconsiglio, lo adoro ed è stupendo dunque, io spero che il video vi sia piaciuto che vi sia stato utile fatemi sapere se lo avete già acquistato se vi è piaciuto, cosa ne pensate e niente, questo è quanto io vi mando tanti 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 bacini vi ringrazio come sempre per essere presenti sul canale ringrazio, non lo faccio spesso ma perché credo che sia sottinteso vi ringrazio sempre di cuore vi ringrazio gli iscritti di sempre e i nuovi iscritti ovviamente tanti tanti baci e ci vediamo alla prossima ciao ciao ciao